Guida sotto l'effetto di stupevacenti e sotto l'alterazione psicofisica dovuta all'abuso di sostanze alcoliche. Per queste ragioni due giovani di 34 e 19 anni sono stati deferiti all'autorità giudiziaria dagli agenti della squadra volanti a seguito delle indagini condotte in occasione di due distinti incidenti stradali. I controlli operati dagli equipaggi hanno riguardato anche il contrasto al fenomeno della prostituzione tra la zona industriale e via Lende, con il deferimento all'autorità giudiziaria di due donne, una di nazionalità rumena e l'altra di origini napoletane, entrambe inosservanti al provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Salerno emesso dal questore.